Salve a tutti ragazzi, allora non è facile parlare della partita di ieri in modo tranquillo Ci provo, ci provo Per chi non avesse visto il video di ieri andatelo a vedere due minuti dura Non perdete neanche troppo tempo, però vi divertite, lo sfogo diverte sempre per chi lo vede, meno per chi lo fa Le mie corde vocali chiedono ancora giustizia Chiedono la grazia perché ieri ho urlato veramente tanto E giustamente anche perché ragazzi vedere un ascempio del genere Tra Massa, l'arbitro della partita e il VAR Che in quel momento mentre facevo il video neanche sapevo chi era Perché io ho perso i primi 30 secondi della partita Tra l'altro quindi ho perso il gol di Sansone e recuperato poi Non sapevo che al VAR c'era di bello E l'assistente VAR, vabbè è lungo, non lo conosco Ok vabbè, però di bello, di bello al VAR Massa alla direzione della gara E abbiamo capito tutto Abbiamo capito tutto Parliamo di più della gara Cercherò di non parlare dell'arbitro Ne ho fatto già abbastanza ieri, grazie La partita Partiamo male Approccio da rivedere Non è la prima volta Partiamo veramente male Praticamente c'è un'azione sulla fascia destra Che si sposta poi sulla sinistra Un 1-2 Dove Rebice e Ballotere vengono saltati completamente Posch dal limite dell'area Praticamente della linea di fondo Riesce a mettere un pallone teso, in mezzo, basso Dove non c'è nessuno a coprire sul cross Basso E nessuno pronto a marcare e a intercettare quella palla Prima che arrivi a Sansone E così Sansone tira gol Sansone in uno stato di forma pazzesco Terzo gol stagionale Non pazzesco tanto per la quantità di gol Però per il periodo del Bologna Dello stesso Sansone è un bel momento 1-0 Colpiti completamente a freddo Poi Pobega all'intervallo nella intervista Tra i due tempi Dice appunto che non se l'aspettavano Che anzi avrebbero voluto attaccare E portarsi già magari in vantaggio loro E invece è arrivato il gol di Sansone Che ha spezzato le gambe In primi 5-6 minuti infatti Milan che ha dovuto reinventarsi un po' il piano tattico Perché quel gol così non se l'aspettavano E non doveva accadere Ragazzi nel primo tempo A parte quel tiro in porta Non ce ne sono stati altri C'è un bel tiro di Eibischer Ma è fuori Per il resto Bologna Io non mi ricordo Niente 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 Forse più tardi Nel secondo tempo Qualche occasioni con Zirkze Zirkze Come volete chiamarlo Vabbè l'attaccante olandese ex Bayern E poco altro Noi Abbiamo iniziato a giocare Abbiamo avuto occasioni Orighi Non è più Orighi Ma è offside Perché era sempre in fuorigioco Ma di un imbarazzante incredibile Cioè Era nettamente già in fuorigioco Oppure In fuorigioco di rientro Che non fa neanche quella Passettino Quello sforzo Per rientrare in gioco In onside Invece è offside Era Offside ogni volta Ormai lo chiamerò offside Non Onigiri Stavo per dire Onigiri Noi lo chiamavamo così all'inizio Ora sarà offside E Rebic Rebic è in una condizione Fisica imbarazzante E comunque Riesce ad avere un'occasione Non dico clamorosa Ma un colpo di testa Centrale Parato da Skorupski E Poco altro ragazzi Cioè nel primo tempo A parte il gol di Pobega Bellissimo gol Col sinistro Se non sbaglio Palo gol Stupendo Giocato benissimo Pobega Abbiamo fatto poco altro Io adesso vorrei Capire Capisco Poco Il turnover Però lo capisco Abbiamo la partita Contro il Napoli Il 18 Se non sbaglio Ed è importantissima Partita più importante Della stagione E E ci stava Il turnover Ci poteva stare Non lo apprezzo mai Soprattutto se è così massiccio Però ci poteva stare Megnan L'unico titolare Gli altri erano Delle riserve E nonostante Le riserve Nonostante I torti Arbitrali Abbiamo fatto La partita E Ancora più amareggiato Che non la portiamo a casa Tutta la La quota Punti Per L'arbitraggio E anche perché Nonostante Avessimo giocato Con le riserve Avevamo Giocato Meglio Del Bologna In casa Che Il Bologna Sta passando Un periodo Fantastico Merita La posizione Che hanno Meriterebbe Se continuano Fino alla fine Della stagione Un posto In Europa Magari Conference Europa League Sarebbe Qualcosa di Cramuroso Secondo me Però Abbiamo Gli abbiamo Palleggiato In faccia Con le riserve Ripeto E nonostante Questo Non riusciamo A buttarla Dentro mai Orighi Inesistente Rebic Scandaloso De Ketelar Io ve lo dico Spero Faccia come Tonali Che dopo Un anno Di assestamento Vediamo Il vero Charles Speriamo Speriamo Non si sa mai Speriamo Veramente E Se le Mekers Qualcosina Di meglio Diciamo Per il resto Veramente Gli altri Hanno fatto Il loro Dovere Florenzi Che rientrava Da un infortunio Ha giocato Solo con l'Empoli Ci sta Ciao Calulu Calulu Che rientrava Dall'infortunio Balluture Sappiamo Tutti Che Balluture Non è Il vice Teo Che vorremmo Però Abbiamo Questo Nel secondo Tempo Io voglio Capire Pioli Perché Al settantesimo Fa i Cambi Perché Al settantesimo Perché non li puoi fare prima Cosa vuoi che facciano In 20 minuti I cambi Leao Ibrahim Dias Dimmi Cosa vuoi che facciano Capisco il turnover Ma Se vuoi fare i cambi E devi farli Falli prima Leao I primi minuti Anche Ibrahim Non hanno fatto niente Grazie al cazzo Non è che Tu fai Delle scelte sbagliate E poi pensi Che in 20 minuti Questi ti risolvano Una partita Così No Non funziona così Abbiamo Avuto delle occasioni E è rientrato Anche Messias E Non è arrivato Però Un tiro Decente In porta Ragazzi Non è che Diciamo La partita Miracolosa Di Skorupski Che Che fa La solita partita Piena di interventi Miracolosi E dici Madonna Devo Smadonnare Contro Il portiere No Non abbiamo fatto Dei bei tiri C'erano delle occasioni In cui abbiamo Lasciato la palla Completamente Mamma mia Tre punti Che sarebbero Stati importanti Visto che poi Cosa ha fatto l'Inter A San Siro Contro il Monza Vedremo Poi oggi Cosa farà La Juve Con il Sassuolo Se non sbaglio A Reggio Emilia La Roma Che invece Se non sbaglio Gioca in casa Si Roma Udinese Vedremo Che all'andata L'Udinese Era un altro Udinese E vinse 4 a 0 E Quindi Speriamo Che Queste Rallentino La Roma Comunque È Sicura Di rimanere Sopra Per questa giornata Ha visto Un punto guadagnato Del Milan E i 0 punti guadagnati Dell'Inter Comunque Fatemi sapere la vostra Nei commenti Se è riuscito a stare calmo Per quasi 10 minuti Ce ne voleva Però Di impegno Per rimanere calmo Dopo questa partita E Ci vediamo Più tardi Per il video Post partita Sul Padova Salute a tutti Ragazzi Buona giornata